Allora, intanto benvenuti alla prima giornata del corso di Rust, di questa serie di 5 corsi. Questa è una giornata abbastanza introduttiva, quindi sono concetti abbastanza base se avete fatto un minimo di programmazione di Rust. Sono nuovi se non avete mai visto Rust, ma comunque se conoscete qualche altro linguaggio di programmazione a basso livello, tipo C o anche non a basso livello, alcuni concetti sono familiari, alcuni sono un po' nuovi. Quindi, iniziamo parlando di come è nato Rust. Questo signore che nel 2006 era impiegato a Mozilla, Graydon Hoare, un giorno tornando a casa, questa vuole la storia, poi che sia così non lo so, un giorno tornando a casa nel suo appartamento a 21esimo piano, raggiungibile comodamente con un ascensore, rotto, a causa di un errore di firmware che ha fatto crashare il sistema di controllo dell'ascensore. Mentre saliva 21 piani di scale, Graydon Hoare si è chiesto come è possibile che siamo in grado di sviluppare programmi estremamente complessi e il mio ascensore si rompe perché qualcuno ha sbagliato un problema di solitamente memoria, perché solitamente la maggior parte dei problemi che scaturiscono dalla cattiva programmazione sono errori dovuti alla gestione della memoria. Questo è come inizia la storia di Rust nel 2006, torno al 2006, Graydon Hoare inizia lo sviluppo in realtà non di Rust, ma di un altro linguaggio, da cui poi deriva Rust. Come prosegue la storia? Questo è il survey del 2022 di Stack Overflow, dei linguaggi più utilizzati e dei linguaggi che hanno più successo tra la gente che li utilizza, ci sono varie statistiche. In particolare questa indica quante persone che hanno usato un linguaggio sono propensi a continuare a utilizzare questo linguaggio. Notiamo che tutte le persone, o comunque 85% delle persone che utilizzano Rust che è al primo posto, sono propense a riutilizzare Rust per i propri progetti e la cosa interessante è che questo trend va avanti da circa il 2016 che è poco dopo quando è uscito Rust. Quindi la prossima versione di Rust rilasciata è stata nel 2015. Da quando Rust è stato rilasciato, tutti quelli che lo usano sembrano essere positivamente colpiti dalle sue funzionalità. Se andate, se cliccate sull'immagine, avete le slide, c'è tutto il survey di Stack Overflow del 2022, potete anche vedere quelli passati e verificare che sia vero. Quali sono i vantaggi di Rust per cui molta gente pensa di passare Rust e quali sono invece gli svantaggi di Rust? Partiamo dai vantaggi. I vantaggi sono che intanto è un linguaggio compilato che ha le performance simili a quelle di C. Molti linguaggi anche compilati non hanno performance così simili a quelle di linguaggi a basso livello come C. Mi sembra che Rust sia tipo 10% meno performance di C, ma poca roba rispetto agli altri linguaggi di basso livello. Nonostante questo è più facile da scrivere rispetto a un linguaggio C e è facile, diciamo, quanto un linguaggio che ha un garbage collector. Se sapete cos'è un garbage collector, bene. Se non sapete cos'è un garbage collector, è un programma che, quando voi scrivete del software, si occupa di liberare la memoria che non usate più ed evita che l'utilizzo di memoria del vostro computer esploda. Rust ha la capacità di essere facile da scrivere come un linguaggio di questo tipo senza aver bisogno di un garbage collector che, come vedremo, porta via moltissime risorse al sistema su cui sta girando. Quindi vi dà dei vantaggi di scrittura del codice senza gli aspetti negativi che derivano dal poter usare questi vantaggi di scrittura. Permette in maniera abbastanza sicura di scrivere codice concorrente. Questo non lo vedremo questa giornata, è un concetto abbastanza avanzato, lo vedremo qualche giornata più avanti. Infine, ha degli incredibili tool per sviluppare. Questa è una cosa che in realtà non è proprio un pro di Rust, perché non è una proprietà del linguaggio, ma è una proprietà dell'ambiente che è stato sviluppato intorno. È molto facile scrivere del codice Rust e anche quando sbagliamo a scrivere del codice è facile trovare gli errori, correggerli, non tanto per come è costruito il linguaggio, ma per come sono costruiti i tool che utilizziamo per, ad esempio, compilare, per eseguire o per condividere il nostro codice. Quali sono i lati negativi invece? Dobbiamo stare molto attenti a quello che scriviamo, perché è un linguaggio molto pignolo, è molto rigido su quello che vuole, quindi vuole che siamo attenti a determinate cose. Ovviamente questo non è un capriccio, è tutto per permettere gli aspetti positivi sopra e è una cosa che poi ci tornerà anche vantaggiosa più avanti perché ci costringe in qualche modo a tenere il nostro codice ordinato e quindi renderlo più facile da gestire in seguito, modificare, aggiornare. E richiede molto poco debug, una volta che il codice funziona dobbiamo andare a rivedere ogni volta quello che si è rotto. Di solito le robe si rompono una volta, le sistemiamo a posto. Sostanzialmente, appunto, siamo costretti a essere precisi dall'inizio, quindi già da subito siamo forzati a lavorare bene. Perché stiamo parlando così tanto di sicurezza della memoria? Perché diciamo che questa cosa è un po' rivoluzionaria, un po' interessante? Perché se guardiamo sempre vari sondaggi, vediamo che la maggior parte dei problemi di sicurezza, ad esempio, qua trovate un link sul report dei problemi di sicurezza di Microsoft, sono dovuti a errori di memoria. Questo perché solitamente non sono facili da individuare e non sono facili da correggere una volta che il nostro codice è già stato scritto. Quindi sono, diciamo, la principale causa delle patch di sicurezza, per cui Windows si aggiorna, se usate Windows. Dove viene usato Rust? Questi sono dei progetti, alcuni magari sono familiari, alcuni no, però questi sono, diciamo, dei progetti che ho trovato che utilizzano Rust partendo da, in alto a sinistra, questo è Servo, è un web engine per renderizzare pagine, scritto da Mozilla, in Rust. Firefox, browser che penso conosciate. Dropbox, che ha riscritto il sistema per sincronizzare i file che utilizzava in precedenza, non mi ricordo in che linguaggio fosse scritto, però l'ha riscritto completamente in Rust. Linux, che dalla versione 6.1 permette la scrittura di moduli kernel in Rust. Fusion Engineering è un'azienda che si occupa di sviluppare droni e sistemi di controllo per droni, non sviluppa i droni, sviluppa dei controllori per droni che, diciamo, un sistema di controllo per droni deve girare su un ambiente molto limitato, solitamente un sistema embedded. Quindi questo ci dimostra che Rust, nonostante sia un linguaggio abbastanza avanzato come potenzialità, riesce a girare comunque bene anche su sistemi embedded. Discord ha recentemente riscritto il proprio backend da Go a Rust, perché c'erano dei problemi appunto col Garbage Collector, che in alcuni momenti, a periodicità di qualche minuto, consumava tantissime risorse per pulire tutta la memoria rimasta inutilizzata. Discord è passato a risviluppare tutto il backend in Rust e da quel momento hanno visto un miglioramento di performance. AWS non sono sicuro che abbia già adottato Rust, però aveva fatto uno studio tempo fa, il team di AWS, e aveva notato che riscrivendo il codice in Rust, riscrivendo in Rust il codice che già avevano, il loro sistema che già era pronto, i loro server sarebbero andati a consumare, i loro datacenter sarebbero arrivati a consumare metà della corrente che utilizzavano. Quindi il fatto che sia a basso livello e che ci dia performance non è soltanto per velocità del codice, ma anche per consumo. Quindi, vabbè, emissioni, se siete persone a cui interessano queste cose, se siete un'azienda a cui non interessa niente, soldi. Twitter anche ha, non so quanto tempo fa, ha riscritto il proprio backend in Rust. WebGPU è uno standard recente costruito, non mi ricordo chi l'ha programmato, chi l'ha sviluppato. Comunque serve praticamente a permettere al vostro browser e alle applicazioni che girano sul vostro browser di accedere alla GPU, quindi all'accelerazione grafica, utilizzando delle api comuni, che poi utilizzano sotto OpenGL, Vulkan, o quello che avete. E anche questo è il nostro terrasso. L'ultimo, Cloudflare. Recentemente Cloudflare ha notato che il traffico, che era sempre in aumento, non poteva essere più gestito da Nginx, come veniva gestito prima da Nginx, e ha deciso di risviluppare da zero il sistema di gestione delle connessioni che era appunto Nginx configurato in Lua, adesso è Rust. Tutto scritto in Rust. Quindi, anche se sembra una cosa un po' strana, un po' esagerata, ci sono degli esempi per cui progetti grandi, anche già abbastanza maturi, hanno visto dei miglioramenti interamenti nel vedere la propria codebase riscritta, o interamento in parte, in Rust. Vediamo un po' le caratteristiche che ha il linguaggio. Quindi, quali sono i tratti che caratteristano questo linguaggio? È un linguaggio compilato, quindi una volta compilate, ottenete un codice sorgente, potete eseguire questo codice sorgente, e questo è uno dei motivi per cui è abbastanza veloce, come ogni linguaggio compilato. Multiparadigm vuol dire che questo linguaggio può, diciamo, trarre vantaggio da molti paradigmi di programmazione. Se siete abituati a C, usate la programmazione imperativa, altri programmi hanno programmazione oggetti, altri linguaggi hanno programmazione oggetti, come ad esempio Java, C++, programmazione oggetti. Programmazione funzionale, non so se l'avete mai usata. Rust può utilizzare molti di questi paradigmi, quindi è anche molto versatile da quel punto di vista. Per raggiungere questa incredibile sicurezza della memoria di cui abbiamo parlato abbastanza, utilizza dei concetti di ownership e borrowing che sono dei concetti un po' diversi da quelli che avete normalmente in C con i puntatori. Chi ha fatto Informatica 1? Informatica 1. Fondamenti di informatica, scusate. Si chiama Fondamenti di informatica. Ok. Sapete cos'è un puntatore? Ok. Qua non... Qua, diciamo, di solito non li usate, non penso li possiate usare. Non li posso usare. Non li posso usare. Usate ownership e borrowing, diciamo che sono una rete di sicurezza che vi permette di non farvi troppo male quando lavorate con la memoria. È un linguaggio staticamente tipizzato. Questo vuol dire che quando eseguite il vostro programma dovete sapere a priori i tipi di ogni variabile. Quindi se voi fate una variabile che è un intero, magicamente questa variabile non può diventare un numero a virgola mobile, come succede in altri linguaggi, tipo Python, dove i numeri diventano liste, poi diventano string, poi diventano altro. Come preparare l'ambiente di sviluppo? Se volete seguire questo corso non ci sono delle... non dovete fare niente per oggi almeno. Se volete seguire le prossime lezioni anche in maniera attiva, perché le prossime lezioni invece conterranno anche del codice, avete due possibilità. La prima è di installare la suite di Rust per compilare, che è una serie di tool che si scaricano utilizzando un comodo comando se siete da Linux, se siete da Windows, non lo so. Questo comando che è questo, non state a guardarlo e copiarlo, se andate sul link di Rust App, Rust App è, diciamo, tutta questa serie di tool che vi preparano un ambiente ottimo per lavorare in Rust. Potrebbe succedere qualche disastro se avete qualche distribuzione strana per cui non vi vengono inizializzate le variabili di sistema, però in teoria non dovrebbe succedere, di base. Se succede, ve ne accorgete perché vi arriva un warning che dice devi fare questo, e voi lo fate. Se invece non avete voglia di scaricare una serie di tool per seguire questi corsi, volete provare questo linguaggio senza effettivamente dover scaricare niente, e poi a posteriori, se vi interessa scaricare, potete andare su questo sito che si chiama Rust Playground, c'è un QR code se volete inquadrarlo oppure sempre c'è il link. Rust Playground è un editor online che vi permette di scrivere codice con syntax highlight e tutto quello che serve, compilarlo ed eseguirlo tutto nel browser. Quindi non dovete scaricare niente, è comodo se volete seguire magari questo corso oppure provare Rust senza dover scaricare tutta la sfilza di tool che pesano anche abbastanza, mi sembra. Però riguardo a quello che hai detto prima, se siete su Windows, guardato adesso, c'è un installer Windows che fa la stessa identica cosa di questo mandorino. Ok. Se scaricate tutta la sfilza di tool, vi serve un altro tool importante, che è un syntax highlight, in realtà è un LSP, che si chiama Rust Analyzer, che oltre a mettere syntax highlight, vi mette anche tante cosine divertenti, tipo identificazione degli errori e dei warning mentre voi state scrivendo il codice. Si integra facilmente in molte IDE e in molti editor di testo, tipo Vim, però in realtà l'installazione dipende un po' da editor a editor, quindi non c'è una regola unica. Per molte cose basta installarlo e va. Però non è assicurato, quindi se andate sempre sul link o sul QR code, potete seguire le istruzioni che vi vengono date. Sono molto chiare, è una pagina bella dettagliata. Vediamo come si scrive un esempio di codice in Rust, ovviamente scrivono l'Hello World, perché l'Hello World è il primo programma che si scrive in ogni linguaggio. Vi faccio uno spoiler, Rust per quando facciamo lo sviluppo somiglia molto a C, ovvero cosa facciamo? Creiamo una cartella per il nostro progetto, perché vogliamo tenere le cose in ordine, per piacere fate le cartelle coi progetti, non lasciate tutti i progetti insieme. Divideteli, ci muoviamo nella nostra cartella, scriviamo il nostro Hello World, che in Rust si scrive in questo modo. Vabbè, modifichiamo o scriviamo un file nome, a questo punto non ci interessa il nome per ora, poi più avanti ci interesserà. L'importante è che abbia l'estensione .rs, così tutti i tool di Syntaxe Lite riescono a riconoscere cosa stiamo facendo. Leggiamo un po' questo codice velocemente. Fn è la keyword per definire le funzioni, questa la vedremo dopo. Main è la funzione main, questo se avete fatto C lo sapete, non è molto diverso da C, e poi println, punto esclamativo, Hello World. La sintaxe è molto simile a quella di C, al posto di printf abbiamo println, punto esclamativo, poi per il resto è quasi uguale, non c'è il return zero alla fine. Per ora vediamolo così, potete non farvi troppe domande, poi vediamo un po' cosa sono bene gli vari elementi. A questo punto compiliamo il nostro codice con Rust-C, Rust compiler, che avete scaricato se avete usato Rust-App, quindi se avete eseguito le istruzioni prima siete riusciti a scaricarlo, compiliamo il nostro codice, lo eseguiamo, e ci sta Pile of World. Questa è, diciamo, la serie di passaggi base per compilare un file. Questa è una pessima idea quando andrete a fare progetti più grandi, perché se avete mai usato GCC e avete mai compilato un progetto che richiede più di un file, sapete che fare questa cosa qua è difficilissima se avete due file, semplicemente due file devono essere linkati insieme, i comandi diventano tre, poi diventano sessanta e diventa difficilissimo. C'è un motivo se la gente usa makefile per C e anche c'è un motivo per cui la gente non usa Rust-C per compilare i progetti in Rust, ma usa altre cose. Parliamo delle variabili e dei tipi di dati. Per ora abbiamo visto soltanto nel low-word, quindi non c'era molto da fare. Vediamo come si inizializza una variabile. in Rust. Inizializzare una variabile in Rust è molto facile, nel senso che, come in ogni altro linguaggio, possiamo scrivere let, keyword per definire le variabili, che in alcuni linguaggi è vario, in alcuni linguaggi è il tipo della variabile, basta scrivere let, nome della variabile uguale un numero. In questo modo abbiamo creato una variabile che si chiama x e contiene il valore 5. Ora, partendo da quello che vi ho detto prima, sui tratti di Rust, e vedendo questa riga di codice, vi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato? Esatto. Non abbiamo specificato un tipo. Eppure, questa cosa in realtà la potete vedere semplicemente guardando il titolo della slide, il tipo c'è, perché è implicito. Il compilatore è in grado, infatti, di determinare il tipo in maniera implicita dalle assegnazioni che facciamo. Quindi, questo ci permette di fare delle definizioni, diciamo, concise delle variabili, definendo appunto la nostra variabile uguale a 5. Questo ovviamente funziona se inizializziamo la variabile. Possiamo essere specifici, quindi possiamo dire la mia variabile deve avere questo tipo qua. La fisintassi è uguale, let, nome variabile, due punti, tipo, uguale, valore. Perfetto. In questo modo diciamo al compilatore esattamente di che tipo è la nostra variabile. Ora, lì c'è scritto i32, i32 è un po' strano da vedere se non l'avete mai visto, poi vi spiegherò bene i tipi, come funzionano in Rust, perché non è un int, è un i32, che in c non c'è. Si possono fare cose ancora un po' più strane, un po' più buffe, in Rust. Possiamo definire una variabile e poi inizializzarla in due righe diverse e fare qualcosa nel mentre. Questo perché il compilatore può determinare sempre, abbiamo assegnato 5 a x, allora x sarà un intero. Cosa può andare storto se facciamo una cosa del genere, invece? Esatto. Il problema è che se noi non stiamo attenti, potremmo, per sbaglio, leggere la nostra variabile prima di inizializzarla. Questa è una cosa che può succedere nei linguaggi tipo C, ci permette di farlo. Potremmo fare una cosa di questo tipo. Inizializziamo una variabile, leggiamo il valore della variabile per inizializzare un'altra, definiamo una variabile senza inizializzarla. Inizializziamo una nuova variabile usando la prima e poi inizializziamo la prima variabile. Ovviamente, se noi andiamo a leggere questo codice, è chiaro che x è un intero, y è un intero. Il problema è che a questa riga qua non sappiamo... Non sappiamo bene cosa sta succedendo in quella riga, perché cosa succede in quel caso? Allora, il compilatore, se proviamo a compilare una roba di genere, si arrabbia un pochino e ci dice stai usando una variabile che non è inizializzata. Perché ci fa fare questo? Vediamo un esempio di C. Questo è un esempio molto banale, molto semplice di C, in cui usiamo una variabile non inizializzata. Definiamo una variabile, la stampiamo, P. Se proviamo a eseguire questo codice e ci aspettiamo un qualche tipo di risultato interessante, proviamo a eseguire il codice, otteniamo un valore. Un errore gravissimo che si fa a informatica 1, quindi fondamenti di informatica, è pensare che le variabili non inizializzate siano uguali a 0, contengano il valore 0. Questo perché su alcuni sistemi il carnel è molto gentile da pulirci le pagine quando le usiamo e quindi da inizializzarci tutto a 0. Però non è sempre così. Noi potremmo compilare il nostro file, eseguirlo due o tre volte e vedere che ogni volta che lo eseguiamo il valore sottocambia. Questo perché? Se andiamo a vedere la specifica di c, la specifica di cosa succede se leggo una variabile non inizializzata è boh. Quindi potrebbe ottenere un valore a caso, il compilatore potrebbe essere molto cattivo e cancellarvi tutto il sistema. Perché è una cosa non definita. Quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa. Poi solitamente che scrive il compilatore è gentile, non vi cancella il computer. Però potrebbe succedere perché è compliant con la specifica di c. RAS semplicemente risolverà il problema non compilando codice che ha variabili non inizializzate. O meglio, lettere non inizializzate. Vediamo i tipi basi. I tipi base. Allora, partiamo dagli interi che sono le variabili che di solito si usano più spesso. Infatti ce ne sono tanti. bellissimi. Se voi siete abituati a c, siete abituati a int, short, long e long long. Perché in c esistono queste quattro categorie. Il problema è che non sappiamo mai quanto esattamente è grande una variabile. Voi si aspettate int un intero a 32 bit. La verità è che per la specifica di c, int è un intero da almeno 32 bit. Quindi potrebbe essere non da 32, ma da 64 bit. Stessa cosa con lo short, è da almeno 16, però su alcuni computer è da 32. Su alcuni computer è da 16, su alcuni computer non penso sia da 64, perché sarebbero dei computer molto, con parole, molto grandi. sostanzialmente il tipo effettivo che state usando in C dipende molto dall'architettura su cui siete. Questo non è campato per aria, non è perché permettervi dei dubbi, è perché facendo questo lavoro qua ci permette di ottimizzare molto il codice usando tipi della parola del vostro computer. Se non sapete cos'è una parola del computer, questa word, questa word praticamente è la dimensione numero di bit che il vostro computer preferisce la parola che usa, la lingua che parla, tipo a 32 bit. Se voi usate questo tipo qua, che è quello su cui è costruito l'architettura del computer, il computer riesce a fare diverse ottimizzazioni sfruttando l'architettura del computer e il fatto che sia esattamente grande quanto la parola. In Rust siamo precisi con le cose, quindi diciamo che vogliamo un intero a 8, 16, 32, 64, 128 bit. Vogliamo un numero senza segno un intero unsigned quindi U a 8, 16, 32, 64, 128. Se invece vogliamo fare come in C e avere i vantaggi delle ottimizzazioni possiamo usare le keyword che sono i size quindi numero senza segno della dimensione dell'architettura del computer e use size queste mi sembra possono essere molto utili nelle sistemi embed dove lavorare con parole che non sono grandi come la tua architettura porta perdite di performance abbastanza grosse. Questi erano i tipi interi che sono quelli di solito più usati. Ci sono altri tipi che sono ovviamente se arrivate da C li conoscete ovvero precisione singola F32 float questa cosa vi dovrebbe ricordare C i float semplicemente sono all'analogo 64 bit float sarebbero i double di C quindi numerico virgola a 64 bit poi i bool che sono i boolean in C l'implementazione dei boolean cambia un po' da versione a versione dovete usare delle libere di base che non è definito e C usa dei boolean a 32 bit perché sono degli interi Rust usa dei boolean a 8 bit però questo non ci interessa una cosa che invece ci interessa abbastanza è che i caratteri sono a 32 bit quindi un carattere se voi siete abituati a C pensate che il carattere sono 8 bit quindi un byte il Rust non è così il Rust dato che è un linguaggio abbastanza nuovo appunto nato nel 2006 rilasciato su grande scala nel 2015 c'è supporto per i caratteri Unicode quindi caratteri cinesi giapponesi indiani qualsiasi tipo e le emoji potete supportare le emoji questa cosa incredibile in C questa cosa non succede in C se fate un E accentata questo vi sarà capitato a informatica 1 il contenuto della variabile x è 5 e poi vi compare questo quando compilate questo perché di base ci dice il carattere è a 8 bit non vedo perché tu debba usare di più e quindi vi forzo ad usare 8 bit guardiamo un po' il concetto di mutabilità e immutabilità delle variabili se avete fatto fondamenti di informatica avrete sentito questa frase dal vostro professore o dalla vostra professoressa di informatica che vi dice quando non cambiate una variabile quando la vostra variabile non è pianificata per cambiare definitela come costante questo perché potreste fare casini per sbaglio andando a cambiare valori che non volete cambiare bene Rust utilizza questo concetto come la base per le variabili ovvero ho 5 mele compro una nuova mela ho 6 mele no il compilatore di Rust mi dice che io non posso avere 6 mele se ho comprato 5 mele ne ho proprio preso un'altra perché di base tutti i tipi tutte le variabili di Rust sono immutabili questo serve per evitare che voi definendo una variabile giusto per salvarci un valore vi venga la strana idea di cambiarla durante l'esecuzione del codice e partendo dall'assunzione che in realtà quella variabile non può cambiare rompete tutto per sbaglio qua potete già vedere anche nell'esempio prima delle variabili potete vedere che il compilatore di Rust è molto esplicito in quello che sta succedendo non è semplicemente come in GCC che dice non va bene e si rompe vi dice guarda hai assegnato mele qua hai provato da aggiornare mele ma non posso fare questa cosa perché è immutabile la variabile è così gentile sotto da darci un'altra riga dirci consiglio su cosa puoi fare puoi aggiungere mut prima mutable e poi sotto ci dà una stringa che dice se vuoi più informazioni su questo errore usa Rust C meno main explanation R03 384 questa cosa qua è molto comoda perché il compilatore senza dover andare su internet a cercare quali sono le possibili cause le possibili soluzioni di qualcosa il compilatore già vi viene consegnato con dei consigli su come aggiustare il vostro codice e capire dove si rompe quindi quando il compilatore non compila il codice non vi dice semplicemente il codice è rotto ma vi dice guarda il codice è rotto probabilmente l'errore è di questo tipo ecco delle possibili soluzioni se vuoi sapere di più leggi le informazioni questo appunto è uno dei vantaggi che dicevo prima dei tool molto gentili molto utili che ci permettono di sviluppare senza soffrire troppo seguendo i consigli del compilatore allora adesso prendiamo le mele mutabili quindi possiamo comprare 5 mele comprare un'altra mela e avere un numero di mele che è il numero di prima più 1 giusto perché non volevo riscrivere 6 adesso non avremo errori nella compilazione avremo ancora qualche warning perché in realtà quello non è un codice che fa molto e Rust se ne accorge di base quando definiamo una variabile questo è proprio il template se conoscete un pochino la sintassi della documentazione di Bash questa è abbastanza facile da riconoscere della documentazione in generale let una keyword che serve a dire sto definendo una variabile opzionale rendere la variabile mutabile obbligatorio dare il nome opzionale dare un tipo opzionale dare un valore perché abbiamo detto possiamo dare il valore dopo quindi possiamo rendere tutto opzionale le uniche cose importanti sono let e il nome quindi dire al compilatore che da questo momento esiste questa variabile quindi le uniche cose obbligatorie sono quelle la let la prima e il nome tutto il resto è opzionale in Rust esistono anche le costanti questa cosa è un po' strana per chi lo vede la prima volta le variabili sono immutabili ma ci sono anche le costanti sembra un po' una ridondanza non è proprio una ridondanza perché le costanti hanno delle caratteristiche diverse allora intanto il compilatore ci forza a scriverle tutte maiuscole così le riconosciamo subito poi le costanti devono avere un tipo perché la differenza tra le costanti e le variabili immutabili è sottile ma c'è una variabile immutabile è qualcosa che non può mutare nel corso del programma se non una volta ovvero quando viene assegnata la prima volta le costanti invece non vengono assegnate hanno già il loro valore nel momento in cui iniziano a esistere non saprei come spiegarvi questo concetto in altri modi se non immaginatevi gli immediate di Axo oppure immaginatevi che le costanti sono incise a fuoco nel vostro codice quindi quando il vostro compilatore compila il codice le costanti già devono avere un valore le variabili possono non avere un valore quando il compilatore compila ma una volta che prendono il loro primo valore lo tengono per tutta l'esecuzione un esempio di costante pi greco pi greco spero non cambi nel tempo un esempio di variabile che invece non deve cambiare nel corso di esecuzione del programma è ad esempio quando hai iniziato a eseguire il programma perché se inizi ad eseguire adesso voglio che adesso rimanga per tutta l'esecuzione del programma però potrai eseguirlo in momenti diversi quindi questa è la sottile differenza tra le costanti e le variabili non mutabili un'altra cosa di Rust che diciamo non c'è in Rust ma c'è in altri linguaggi come C sono le funzioni variadiche le funzioni variadiche sono delle funzioni particolari che spero per voi che non abbiate mai scritto perché sono delle funzioni che hanno un numero di parametri che quando viene definito quando viene definita la funzione non si sa quindi tre puntini in realtà ce l'ha anche Java questa cosa bisogna fare una serie di procedure iniziali una serie di procedure finali e poi nel resto possiamo fare quello che vogliamo con i nostri argomenti della funzione le funzioni variadiche accettano un punto numero indefinito di parametri quindi in questo caso lasciate perdere tutta l'implementazione guardate che questo è un sum quindi sarà una funzione che fa la somma di qualcosa in questo caso fa la somma di tutti i suoi parametri quindi qua sarà uno più due più tre più quattro più cinque ritorna questa cosa è molto utile perché ci permette di se scriviamo la libreria chi ha scritto la libreria ha la possibilità di fare una volta la funzione somma e poi dire puoi farlo con quanti parametri vuoi quindi io che faccio la libreria somma non devo fare somma tra due interi somma tra tre interi somma tra quattro interi no faccio somma una volta sola mi passi quanto interi vuoi e io mi gestisco dopo le cose questa cosa però ha un po' di lati negativi un esempio di funzione variatica che sicuramente avete visto sempre se avete usato c è la printf la printf è una funzione che accetta come primo valore una stringa che può contenere dei percentuali qualcosa che sono dei placeholder e poi un numero variabile di argomenti che sono ad esempio in questo caso a e b due e quattro dei numeri qual è il problema delle funzioni variatiche sono molto flessibili ma possono causare molti errori ad esempio il numero di valori che gli passano si sa subito si sa una volta che il codice sta seguendo se fate la magistrale di informatica e state facendo il corso di sicurezza informatica sapete che la printf è causa di molti problemi come molte funzioni variatiche o molte cose che partono dal presupposto di non sapere cosa mi stai passando quindi molto flessibili positivo però arma doppio taglio perché potrebbero portare dei problemi se non sappiamo bene come usarle il programmatore medio non si fa troppi problemi le usa e poi potrebbero saltare fuori dei problemi dopo ovviamente se sapete come funzionano potete usarle potete sfruttarle però fate attenzione che vengono con anche degli aspetti negativi Rust riesce comunque a fare qualcosa di simile quindi definiscimi la funzione una volta passami quanti argomenti vuoi utilizzando il concetto di macro il concetto di macro è un po' differente dal concetto di funzioni variatiche ci permette comunque di costruire delle funzioni che accettano numero e limitati parametri oltre a altre permettono di fare questa cosa e altre mille cose però adesso vi porto come esempio questa perché avevo un controesempio di c le macro sfruttano il fatto che qualsiasi sia il numero di parametri che mi passi quando compilo io so qual è quel numero quindi non c'è bisogno di fare una funzione che quando eseguo il codice si adatta all'esecuzione mi basta fare una funzione che quando compilo si adatta poi durante l'esecuzione è sempre quella così non ci sono problemi del mi hai passato mille parametri e meno devi passare uno solo la controparte della printf in rust è la println punto esclamativo il punto esclamativo è ciò che in rust definisce cos'è una macro cioè o meglio serve a identificare le macro qual è un altro vantaggio di usare una macro rispetto ad esempio a una funzione variadica dato che rust sa già qual è il tipo di a e qual è il tipo di b quindi a 2 è un intero b 4 è un intero allora quando passiamo i parametri a e b usando le graffe invece che il percento d rust sa già che cosa stiamo andando a scrivere in c il percento d è per stampare gli interi se volessimo stampare un numero a virgola mobile sarebbe percento f se volessimo stampare un numero decimale sarebbe percento x se lo vogliamo in maiuscolo è x maiuscolo se vogliamo una stringa è s se vogliamo un carattere c diciamo che dobbiamo fare attenzione a cosa passiamo cosa diciamo che stiamo passando quindi dobbiamo fare attenzione alla funzione del suo intero qua ci basta dire la a metti la qua la b metti la qua e il tipo se li ricava lui appunto diciamo usare le graffe invece che usare per cento mille cose se andate sulla documentazione dc c'è una tabella enorme con scritto usa per cento questa lettera con questo numero per fare questa cosa qua non vi serve perché di base il compilatore riesce a farlo un'altra cosa che potete fare con le macro questa è più una roba sintattica infilare direttamente le variabili all'interno quindi potete direttamente invece che scrivere stringa di formattazione virgola a virgola b potete scrivere direttamente a e b dentro le parentesi graffe questo diciamo vi accorcia un po' il codice non si può fare sempre perché ci sono dei casi in cui fare questa cosa qua rompe un pochino il compilatore allora dice il compilatore proprio dice non farlo fai quest'altra cosa perché non posso farlo non dobbiamo appunto specificare i tipi perché il compilatore li gestisce da solo quando compiliamo una println quello che ci ritroviamo nel codice è una cosa di questo tipo ora non sono effettivamente queste era un esempio il compilatore sa che a che stavamo stampando un intero stampa un intero con valore a dica c'è una domanda da casa se io per qualche motivo volessi fare un casting dentro la println non penso esistono casting il rast prego prego espertissimo allora nel casting non si può utilizzare questo metodo con le variabili dentro bisogna utilizzare quest'altro in questo caso ti metteresti dopo la variabile che vuoi castare as che è la keyword per castare una variabile a un altro tipo e poi il tipo che vuoi utilizzare il casting vede effettivamente cioè la println legge che effettivamente tu non stai utilizzando il tipo di as stai utilizzando il tipo castato quindi effettivamente mi sa già che non devo utilizzare il tipo di as ma appunto il tipo che non mi stiamo castando dopo è abbastanza intelligente ok se non si fosse notato lui è l'esperto di rast noi siamo i goblin che stanno facendo la presentazione era per lasciargli le parti interessanti delle prossime lezioni comunque quando noi scriviamo appunto la printf la println che sarebbe la printf di rast rast la scompone proprio in diverse funzioni che fanno diverse cose ora effettivamente se voi andate a vedere il codice non succede esattamente questo questo l'ho scritto io per renderlo comprensibile perché se guardate la libreria è un pochino più complicato mi sembra ci sono un po' di cose strane che per ora non abbiamo ancora visto però quello che succede è che vengono rimpiattate le funzioni con delle funzioni che fanno esattamente quello che gli chiedete durante la compilazione non c'è un come nella printf la printf inizia a leggere la stringa di formato la printf quando voi passate questa cosa qua fa un disastro ovvero che inizia a leggere carattere per carattere trova che ci sono questi va a vedere cosa c'è qua sostituisce continua a leggere carattere per carattere vede questo va a leggere cosa c'è qua continua a leggere carattere per carattere e questa cosa viene fatta durante l'esecuzione quindi la printf è intanto pesantissima da fare e poi ha un sacco di problemi qua semplicemente viene fatto stampa stilinga stampa carattere stampa intero a seconda di quello che ci serve proprio durante la compilazione così è più veloce perché abbiamo una funzione che sappiamo già cosa deve fare e più sicuro perché non rischiamo di fare disastri un altro un'altra parentesi sulle funzioni di c che la gente solitamente non si aspetta definiamo una funzione function chiamiamo questa funzione passandogli un numero enorme di parametri quando abbiamo detto che non ne volevamo nessuno ci aspettiamo che il compilatore non funzioni e invece il compilatore compila perché se andiamo a vedere la specifica di c non dire niente all'interno della definizione di funzione vuol dire semplicemente non mi interessa cosa mi passi quindi noi possiamo passare parametri quanti ne vogliamo alla funzione la funzione non potrà usarli perché non sa come si chiamano se andiamo a scrivere in assembly dentro possiamo farci qualcosa ma è un disastro se vogliamo essere specifici sul fatto che non devi passarmi nessun argomento dobbiamo specificare void questa è una cosa che questo nessuno abbia mai fatto durante qualsiasi corso di informatica nessuno lo fa però in realtà il modo corretto per farlo sarebbe questo se proviamo a compilare questo il compilatore ci dice mi aspettavo zero parametri meno t5 non va bene questa cosa un'ultima menzione su elementi di sintassi di Rust 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 usa i commenti molto C like quindi i commenti sono molto simili ai commenti di C slash slash per fare un commento su linea singola slash asterisco e asterisco slash per fare un blocco di commento su più righe questi sono i commenti base appunto come li vedete su C c'è anche una sintassi che è speciale per i commenti diciamo di documentazione questi sono dei commenti particolari che i vostri leader riescono a riconoscere e a utilizzare come documentazione quindi se voi scrivete una funzione e sopra scrivete commento di questo tipo quando qualcuno prova a usare la vostra funzione vi compare sopra il cartellino che ho scritto il vostro commento se avete fatto ad esempio il progetto di ingegneria informatica sapete che si possono dire molte più cose non basta non è che dico la descrizione questa funzione fa questo posso dirti a questi parametri ritorna queste cose deve fare queste cose eccetera eccetera si può essere molto specifici ora vi basti sapere che se usate tre slash potete fare un commento di documentazione a riga singola se fate slash asterisco asterisco blocco di commento asterisco slash potete fare un blocco di commento di documentazione poi per essere precisi ci sono molte altre regole per renderlo ancora più comprensibile dal vostro compilatore però dal vostro compilatore dal vostro IDE e dal syntax highlighter però non li vediamo perché sono un po' fuori un po' inutili per ora ok ora passo la parola al mio collega se riesco a togliermi il microfono da dosso va bene bene adesso andiamo a vedere cargo potete cliccare lì nel caso volete approfondire con la documentazione allora cargo è uno dei vari motivi per cui Rust più o meno da 2016 è il giga chad dei linguaggi di programmazione della classifica di stack overflow quindi andiamo un pochino a vedere meglio che cos'è perché è una delle cose con cui interagirete di più se vi mettete a fare effettivamente progetti in Rust allora cargo detto in poche parole è il build system package manager di Rust che cosa vuol dire questo? forse alcuni di voi sono già familiari con questo genere di tool ma in ogni caso un tool come cargo ci aiuta in buildare il codice quindi questo vuol dire sia compilare che gestire tutto l'aspetto come vi diceva prima il mio collega può essere un problema magari per esempio quando avete un programma in C se avete più di un singolo file come ve lo insegnano a fondamenti di informatica voi compilate il singolo file quindi in quel caso come va gestito e quindi cargo ci aiuta in questo cargo ci aiuta anche a scaricare e a gestire le librerie da cui il nostro codice dipende inoltre buildare quelle dipendenze quelle librerie e cosa molto importante gestire le versioni di quelle dipendenze perché può capitare che il comportamento di una libreria cambi da una versione all'altra e ovviamente la cosa che vogliamo quando facciamo un progetto è avere riproducibilità avere un comportamento prevedibile e inoltre una cosa bella che fa cargo è integrare già il progetto con git poi dopo vedremo bene che cosa fa nel dettaglio però cosa combina cargo però se tappa diciamo già di base una repo git per renderci facile questo step nel progetto e questo è importante perché effettivamente un programma come un semplice Hello World si può compilare con il Rust compiler ma in ogni altro caso praticamente per ogni singolo altro tipo di programma che abbia un minimo di complicità in più è necessario è necessario è meglio e abbastanza necessario in realtà usare cargo ora non è solo importante per il progetto in sé ma anche perché la maggior parte dei progetti che esistono al mondo di Rust utilizza cargo quindi se volete anche poter interagire sapere come interagire con il progetto di qualcun altro dovete imparare ad interagire con cargo e importantissimo quando si lavora in un team perché appunto per chi di voi ha mai fatto un progetto in team sa quanto gestire tutte le versioni delle dipendenze delle librerie è una cosa sia difficile che critica da fare soprattutto le versioni precise e qui io vi faccio una domanda chi di voi ha fatto il progetto di ingegneria del software del terzo anno o lo sta facendo adesso? Ah ok un bel po' di gente si usa ancora Maven giusto? per gestire le versioni di Java cosa? Sì ok perché appunto questo genere di tool non è che Rasta ha inventato l'acqua calda ha imparato solo Rasta ha saputo come gestire i progetti questo è un tipo di tool che esiste per tanti linguaggi di programmazione perché abbiamo per esempio Maven o Gradle per Java chi ha fatto il progetto ingegneria del software l'ha incontrato meglio ci si è scontrato probabilmente poetry per Python npm per Java script e così via sono tutti tool che fanno più o meno questo genere di cose e magari molti di voi ci possono essere probabilmente familiari se avete fatto progetti di programmazione magari non sono molto felici a riguardo però su quello ci arriviamo dopo perché se andiamo anche a vedere quelli del C perché non abbiamo fatto altro che fare paragoni col C perché alla fine Rust l'abbiamo tentato di descrivere come C ma meglio quindi il C ne ha tantissimi di questi tipi di tool Amazon CMake Autogen Bazel eccetera eccetera se avete mai compilato da sorgente un qualche software comunque avete avuto a che fare con una repo di GitHub probabilmente c'era di mezzo CMake Mason insomma qualcuno di quelli e la questione qual è è che se voi leggete la documentazione della repo vi dicono run a questo comando e si compila tutto se ci avete mai provato sapete che non è così non funziona mai così in modo liscio e infatti questo genere di software è famoso per essere un po' doloroso da utilizzare e inoltre spesso sono tool esterni che dobbiamo prima setappare non solo scrivere il nostro progetto ma setappare il tool per gestire tutte le dipendenze e buildare il progetto ora non sarete magari molto felici di sentire questa descrizione però cargo è un po' diverso almeno perché cargo tenta di essere di rendere questo approccio molto più facile meno doloroso prima di tutto se avete installato rust con con il comando che vi abbiamo fatto vedere prima rust app o anche con installer di windows se usate windows cargo è già preinstallato altrimenti potete usare comunque potete installarlo dal con l'installer della vostra distro e ci dovrebbe essere senza problemi ma nella maggior parte delle volte è già lì ed è molto semplice da utilizzare adesso vi mostro come utilizzarlo prima di mostrarvi come utilizzarlo se qualcuno di voi ci sta seguendo come dire smanettando con cose può controllare di averlo installato correttamente se no in generale prima di fare qualunque cosa sempre controllare sul terminale questo vale sia per windows che per linux che è anche per macOS volendo cargo dash dash version semplicemente rannate questo comando nel terminale e se vi da un numero di versione perfetto cargo installato a posto se vi da una qualunque altra cosa cargo non è stato installato correttamente comunque in generale se avete domande anche così dopo queste domande più tecniche sul non mi funziona cargo venite qui anche a chiederci mentre per altre domande non fatevi probabilmente rompermi a chiedere solo se sono troppo elaborate potrei inoltrare la domanda all'autorità qui però quindi come si crea un progetto in cargo prima va creato ovviamente il progetto il modo di creare un progetto è aprire una finestra di terminale laddove volete creare il progetto effettivamente e lanciare quel comando cargo new e il nome del progetto in questo caso abbiamo chiamato hello cargo però potete dargli qualunque nome vogliate e quello che farà il comando di cargo è creare una cartella che verrà inizializzata in un certo modo quindi quello che vi dice che vi diceva lui che è giusto create cartelle per i vostri progetti cargo un po' vi aiuta vi da vi da già tutto nel cucchiaio pronto perché crea già una cartella lui e dentro questa cartella se navigate dentro questa cartella vedete questo genere di struttura quindi all'interno della cartella hello cargo ci sarà la cartella source e un file cargo.toml che cosa sono questi due questi due componenti della cartella il cargo.toml è un file scritto in ed è composto da due parti è un file testuale composto da due parti la prima parte è la parte package contiene delle configurazioni generali per per compilare il programma il vostro programma è una cosa che per uso base non ci dovete pensare troppo almeno per ora l'altra parte che è importante sarà importante più avanti anche nelle prossime giornate è la parte delle dependencies quella sotto perché è lì che andrete a specificare le versioni delle librerie che utilizzerete quindi per esempio se poi andate a vedere nella documentazione cargo quella che ci hai linkata prima fanno per esempio un esempio su come utilizzare come utilizzare fare un giochetto che usa numeri generati randomicamente per usare la funzione che genera numeri randomici avete bisogno di usare la libreria apposita voi potete specificare l'independencies e cargo si occuperà di avere la versione giusta e di averla sempre nel vostro programma e la cartella source invece se la aprite ci sarà dentro un file main.rs con già prescritto all'interno un hello world la question è che questa cartella è la cartella in cui dovete scrivere codice è l'unica cartella in cui dovete scrivere il codice il top level della cartella lo cargo non è per il codice è per altra roba lì il codice va tutto lì nel main o comunque in altri file che scriverete comunque nella cartella source e inoltre se qualcuno di voi ha provato il comando e ha la visualizzazione dei file nascosti attiva avrà notato che ci sono due file nascosti nella cartella hello cargo top level una cartella git e un file git ignore per chi di voi ha usato my git sa già che cosa vogliono dire queste due cose cargo ha già preinizializzato una repo di git nel nostro progetto risparmiandoci degli step abbastanza noiosi e ripetitivi ora andiamo a vedere un po' i comandi generali di cargo giusto per capire come effettivamente gestire un progetto come interagire con il progetto di qualcun altro e cose varie se volete sapere di più su un comando man mano che guardate le slide potete cliccare cioè non qui sulle vostre sul nome del comando e vi porta direttamente alla documentazione cargo build nella cartella del vostro progetto la cartella hello cargo in questo caso se lanciate il comando cargo build quello che succederà è che cargo vi darà un output di questo genere vuol dire che cargo che cosa fa ha compilato l'interessa del nostro progetto gestendo dipendenze gestendo tutto quello che c'è da fare in questo caso è un hello world quindi non è che debba fare tanto lavoro e avrà generato un file eseguibile il file eseguibile sarà all'interno della cartella target debug e ci sarà il file che si chiamerà hello cargo o hello cargo.es su windows quindi avrà creato una nuova cartella target top level cartella debug e dentro questa cartella debug ci sarà hello cargo se lanciamo il prima giusto stavo andando troppo di fretta prima di lanciare il programma avrà creato un'altra cosa il comando il comando cargo build soprattutto se è la prima volta che lo lanciate un file cargo.lock il file cargo.lock è autogenerato da cargo e si occupa di tenere traccia di tutte le singole versioni delle dipendenze perché poi come vedete anche in futuro le dipendenze possono spesso essere specificate come range di versioni magari per compatibilità tra diverse librerie il cargo.lock contiene invece tutte le versioni precise delle dipendenze e delle dipendenze delle librerie che avete specificato quindi ci sarà molta più roba nel cargo.lock ma voi ignoratelo da quel punto di vista è un file generato da cargo non dovete toccarlo se lo toccate si rompe tutto quindi lasciatelo lì dov'è il file eseguibile invece quello lo potete toccare se lo eseguite classico comando da terminale oppure anche sul file explorer doppio clic e lo eseguite verrà eseguito tranquillamente classico hello world e prima di andare a vedere la versione migliore del cargo build se voi per esempio scaricate il progetto rust di qualcun altro che è stato set upato correttamente con cargo immagino potete rannare cargo build nella cartella di quel progetto e avere l'eseguibile compilato del progetto quindi questo rende molto anche facile interagire con i progetti altrui se avete mai lavorato con i progetti degli altri in python per esempio che invece è un linguaggio che per nulla vi impone uno schema un rigore sapete quanto può essere difficile interagire con i progetti altrui perché ognuno lo scrive a suo modo mentre qui con questa struttura un po' imposta voi sapete già ho questo progetto cargo build e lo posso buildare c'è un modo migliore di fare questo step che abbiamo fatto adesso ovvero compilare e eseguire il codice che è cargo run cargo run nello stesso identico modo quindi lanciandolo nella cartella hello cargo la cartella del vostro progetto compila e run immediatamente l'eseguibile lo esegue immediatamente quindi è comodo perché sono due step in uno si risparmia tempo ed è semplicemente comodo perché se voi volete sia compilare che visualizzare immediatamente l'output del vostro progetto potete farlo e se avete compilato prima con cargo build e avete usato adesso cargo run potete notare una cosa molto particolare che rust non ha compilato che cargo non ha compilato il codice questa volta non l'ha compilato perché non perché non aveva voglia ma perché ha notato che non c'è stata nessuna modifica nel codice e se non c'è stata nessuna modifica significativa nel codice che ne altera il comportamento lui non lo compila perché non ce n'è bisogno l'ha già compilato prima quindi questo vi permette di risparmiare tanto tempo soprattutto quando il progetto è grosso e la compilazione può avere come dire può richiedere tanto tempo e altro comando importante cargo check cargo check è è un comando che vi permette sempre rannare cargo check da terminale nella cartella del progetto vi permette di analizzare il codice e di vedere se compil cioè banalmente lo stavo spiegando male banalmente se volete vedere che il vostro codice compili vi è sufficiente usare cargo check perché magari non siete interessati a generare l'eseguibile quindi cargo check controlla che il codice compili senza generare un eseguibile perché esiste sta cosa perché è molto più veloce soprattutto se il progetto è grosso siccome non genera un eseguibile è un comando molto molto più veloce ed è una cosa che sicuramente può capitare spesso perché magari avete fatto il vostro progetto c'è un pezzo avete magari dimenticato una parentesi e il codice non compila risolvete quella parentesi non vi interessa di lanciare il programma vi basta vedere se compila cargo check è utile per queste cose e avrete notato una cosa particolare ovvero che quando avete usato cargo build o anche cargo run perché cargo run fa cargo build e run al codice avrete notato che il file eseguibile è stato creato nella cartella target debug debug non suona molto definitiva come cosa proprio perché cargo considera diciamo i cargo build e cargo run come debugging come per dire state sviluppando il vostro programma volete vedere come funziona va bene però poi continuate a svilupparlo quando invece siete pronti per come dire per rilasciare il vostro programma al mondo semplicemente questa avete avete finito di scriverlo e volete la versione finale l'eseguibile finale che userete voi o che darete a qualcun altro il comando da utilizzare è questo cargo build con la flag release in questo caso verrà creato un eseguibile nella cartella target release invece che target debug perché questa cosa non è solo per come dire non è solo per l'ordine cioè può essere comodo avere l'ordine ma la motivazione principale è un'altra ovvero che quando voi userete cargo build release cargo cargo con il compilatore di Rust performerà tutta una serie di ottimizzazioni ottimizzazioni per rendere il vostro eseguibile finale il più veloce ed efficiente possibile queste ottimizzazioni però sono molto dispendiose di tempo quindi come dire applicare ogni volta che si compila queste ottimizzazioni mentre sviluppate il vostro codice sarebbe una perdita di tempo eccessiva quindi l'idea è voi con il cargo build normale costruite il vostro codice spesso mentre programmate mentre state cercando di debuggare e poi quando siete pronti con il cargo release vi esce l'eseguibile perfettamente ottimizzato che ci metterà di più ad essere compilato ma sarà il migliore eseguibile che potete compilare e con i comandi principali di cargo finiamo qui nel senso che ce ne sono altri ma questi sono quelli principali che vi sono utili sia per gestire il vostro progetto o per interagire con i progetti altrui andiamo a vedere un altro piccolo argomento che si integra con cargo che è clippy esploreremo superficialmente clippy non andremo troppo nel dettaglio e no non stiamo parlando di questo clippy purtroppo ma parliamo di uno strumento interessante di rast clippy consiste in una collezione di lint che vi aiuta in generale a beccare gli errori più comuni e a scrivere codici di rast più pulito se non avete familiarità con il concetto di lint potete comunque cliccare su link lì ma in generale vedete clippy come un pezzo di software che si occupa di analizzare il vostro codice e di beccare degli errori che non sono errori di sintassi gravi come avete dimenticato una parentesi perché quello lì è direttamente il compilatore di rast che vi dice fermo un attimo in questo caso si parla spesso di errori sia di stile che errori diciamo comuni che sono sintaticamente corretti magari andremo a vedere un esempio adesso diciamo che clippy consiste in una lista di più di 600 links che potete tutti vederli lì se per qualche motivo volete spulciarveli come si usa clippy come si usa nella cartella sempre del progetto come sempre comando cargo clippy nel momento in cui usate il comando cargo clippy se siete stati bravi in realtà non vi dice nessun errore se siete stati bravi se avete fatto qualche errore ve lo fa notare vi dice anche come andrebbe risolto vi da dei suggerimenti e se successivamente ranate il comando cargo clippy con la flag fix dash dash fix lui tenterà di applicare quei suggerimenti non lo potrà fare sempre vedremo un caso dopo in cui non lo può fare però dove può applica quei suggerimenti che vi ha dato vediamo un esempio questa linea di codice la prima è una sintesi che non avete ancora visto ma vi spiegherò brevemente che cosa fa if 1 maggiore o uguale di i32 max cosa vuol dire? vuol dire semplicemente se è un if classico if come in c o in qualunque linguaggio di programmazione 1 maggiore o uguale del massimo intero a 32 bit possibile che è 2 milioni e qualcosa se non sbaglio capite bene che nonostante sia sintaticamente corretta come cosa non ci sono errori di parentesi sintassi o cose varie quello è una comparazione completamente inutile perché uno non sarà mai maggiore di i32 max non sarà mai maggiore di 2 milioni non può e se infatti fate usate il comando cargo clippy vi dirà hey ma qui in questa zona di codice stai facendo una comparazione che come vi dice sopra è sempre sempre vera o sempre sbagliata vi sta dicendo che state facendo una comparazione che è sempre vera o sbagliata quindi è totalmente inutile in questo caso la comparazione sarà sempre falsa vuol dire che il blocco di codice all'interno non verrà mai eseguito no allora qui magari tu puoi rispondere più accuratamente sì esatto quindi staticamente questa cosa è sempre falsa esatto allora funziona cioè logicamente è intero maggiore di intero per farlo ma sai già che hai già due valori costanti per esempio uno maggiore di due esatto allora sì ho malinterpretato la domanda allora sì comunque si possono confrontare diversi tipi di interi in quel caso la problematica è che noi stiamo praticamente facendo if uno maggiore uguale di due milioni praticamente è una comparazione inutile perché non sarà mai vera perché sono entrambi i numeri statici quelli ok e uno non potrà mai essere maggiore dell'i32 max è quello il concetto forse mi sono forse mi ero spiegato male spero che adesso sia chiaro e quella lì è semplicemente un modo di di prendere il valore massimo dell'i32 quindi dell'intero a 32 bit che può essere utile per varie cose in cui bisogna inizializzare ad un numero grosso o cose varie e questo pezzo di codice è inutile cioè non è inutile verrà sempre eseguito e sarà sempre falso quindi la roba che c'è dentro è inutile non verrà mai eseguita la roba dentro quelle parentesi e Clippy se ne accorge nonostante sia scritto in modo giusto Clippy dice hey ma qui questa comparazione non va bene perché è sempre falsa o sempre vera quindi vi spiega anche più nel dettaglio qui dopo potete leggervi il messaggio d'errore il compilatore di Rust ma anche Clippy in generale sono molto tendono molto a spiegare dove avete sbagliato non vi fanno sentire stupidi che è una cosa molto bella a differenza del compilatore di C e questo è un errore e Clippy vi avvisa e vi ferma dal compilare nel caso un altro esempio che invece è un esempio più stilistico è immaginiamo di dichiarare due variabili la variabile A che è 10 in questo caso e la variabile B che è A negativa diciamo A per meno 1 se io provo a lanciare Cargo Clippy come comando Clippy mi dice hey non è tecnicamente sbagliato quello che hai scritto però potresti scriverlo meglio questo potresti scriverlo in modo più compatto potresti scrivere meno A quando dicevamo che Rust è pignolo questo è uno dei motivi per cui è pignolo ma è importante una cosa del genere perché questo vi aiuta a scrivere in generale codice più pulito codice più standardizzato e soprattutto più leggibile e in questo caso usando il comando cargo Clippy fix Clippy vi applicherà il suggerimento in questo caso ovvero trasformerà A per meno 1 in meno A che è un modo molto più compatto è chiaro di scriverlo e questo è solo un esempio ovviamente cosa importante non applicherà nessuna forma di suggerimento all'esempio precedente quello dell'i32 max perché a livello di compilatore non è che ci sia molto modo di risolverlo dovete pensare voi a come risolvere quella cosa perché magari avete scritto qualcosa non è che Clippy può semplicemente cancellarvi il pezzo di codice lì dentro per risolvere non è modo di risolvere le cose quindi esempi come questo dovete risolverveli voi ovviamente mentre esempi come quest'altro ve li può risolvere Clippy e abbiamo finito con Clippy quindi se volete vedere altro perché Clippy è molto più è molto vasto come argomento potete vedere la documentazione di Clippy lì anche per vedervi tutti i vari casi in cui corregge l'errore uno per esempio che mi ha colpito perché mi ha riportato ai tempi dei fondamenti di informatica è che se voi provate a scambiare delle variabili non so se sapete che ve l'avranno sicuramente insegnato a fondamenti di informatica è che non potete scambiare due variabili senza usare una terza avete bisogno di una terza variabile in cui mettere temporaneamente un valore se voi provate a scambiare le due variabili senza usare una terza variabile quindi a fare A uguale a B e B uguale ad A è un errore ovviamente ma non è un errore di sintassi Clippy si arrabbia in quel caso e vi dice ehi stavi tentando di scambiare di scambiare le due variabili c'è un modo migliore di farlo quindi vi guida in quel caso e in generale per cargo c'è anche tanto altro da sapere su cargo anche se i concetti principali più importanti sono quelli che vi abbiamo spiegato oggi però qui documentazione di cargo quindi le giornate le vuoi spiegare tu? se vuoi già che ci sono le spiego io? vabbè dai già che ci sono quindi prossime giornate che cosa facciamo nelle prossime giornate? perché questa è stata la giornata introduttiva e siamo arrivati alla fine della parte di spiegazione andiamo a vedere che cosa faremo le prossime giornate molto brevemente quindi giorno 2 si parlerà di control flow quindi statement condizionali funzioni il concetto di ownership e borrowing che è uno dei concetti chiave di Rust dei concetti forse un pochino più ostici per chi non ha mai visto Rust ma sarete in buone mani ve lo garantisco e poi lavorare con vettori array che probabilmente siete già familiari anche se in realtà fondamenti di informatica con vettori array ci riferivamo alla stessa cosa qui è più come dire array e liste array e vettori insomma giorno 3 le strutture quindi enumerazioni strutture i metodi e gestire le librerie e le dipendenze quindi anche tutto quell'aspetto che abbiamo visto prima del gestire le dipendenze non vedremo più nel dettaglio il giorno 4 cominceranno le cose un pochino più avanzate quindi traits e generics lifetime gli smart pointers queste sono parole a caso probabilmente per chi di voi non è pratico con Rust però dopo il giorno 4 vi sarà chiaro che cosa vogliono dire a parte le macro quelle le avete viste ed è un concetto importante di Rust e la keyword unsafe anche quello concetto avanzato e ultimo giorno il giorno 5 sarà un giorno un pochino il giorno conclusivo il giorno in cui siete dei cosiddetti Rustations ovvero dei pro della community di Rust o in generale parte della community di Rust si vede la concorrenza stiamo parlando di scrivere codice efficiente che lo vogliato o no bisogna mettere un po' di mani nella concorrenza e nella parallelizzazione e poi ci saranno ci sarà una parte un po' più hands on quindi pratica progetti interessanti e potrete parlare con qualcuno che ha una grossa esperienza in Rust per fare le vostre domande o comunque in generale per chiarimenti bene abbiamo finito l'esposizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti